Gabri dove hai messo queste elytra dammi subito le elytra è un segreto le ho nascoste ah mi nascondono sempre le elytra ragazzi porca miseria questi qua sono un server di pazzi tutti quanti non è vero allora andiamo immediatamente a prendere queste elytra dimmi un po' qua è acqua fuoco aria vento si 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 sta scaldando l'acqua cos'è che si sta scaldando? l'acqua ah ok meno male no perchè pensavo che si stesse scaldando qualcos'altro ma cosa? beh si potrebbe potrebbe darsi che si scaldi qualcos'altro che non dico però da questa parte com'è Gabri? eh l'acqua è bollente qui addirittura quindi praticamente ancora di più adesso vero? si si ok ok puoi rispondermi prima di tre mesi noi ci stavo rispondendo subito no si pare di no comunque ho trovato le elytra grazie eh ho notato che le elytra trovate dammi subito qualcosa di tuo prezioso vieni è il tridente è preziosissimo adesso ti uccido no 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 va non guardare guarda sotterra ti fai qualcosa va bene va bene stai ancora correndo? ok perfetto ah ragazzi è proprio bello quando si bullizzano in questo modo le persone scherzo eh voi non fatelo e poi ovviamente non è vero bullismo si scherza chiaramente anzi è molto importante come tema quindi non non scherziamoci nemmeno per l'amore del cielo allora io il tridente ragazzi voi vedete che lo nasconderò da questa parte qui e avete capito avete capito dove eh che così almeno possiamo capite capite cosa intende dunis no soprattutto eh se avete visto una un certo episodio che non vi dico cosa perché se no poi poi Gabri capisce però voi insomma cosa? ma niente Gabri niente mi tipo da te perché sono è vero sono sotterra pessima idea è stata questa è tutta colpa tua no si adesso veloce esci da eccomi eccomi ci sono da qua o creatura ma perché ti sente il mouse? scusa fai immediatamente qualcosa a questo mouse oppure te lo metto su per il no guarda non mi fare dire perché è una cosa veramente brutta comunque vai scegli una direzione e di qua? acqua hai sbagliato ovviamente di qua? beh sì direi più acqua calda c'ha più calduccia e l'acqua che cosa ho appena preso la Gabri Littel perché praticamente eh mamma mia l'acqua si sta riscaldando comunque un bel po' di qua? l'acqua non tanto non tanto adesso si sta raffreddando l'acqua esatto per chi non l'avesse capito stiamo giocando a acqua e fuoco eh praticamente eh lo so qua c'è un vortice di fuoco assurdo proprio qua? eccolo qua subito non l'avevo visto ma infatti eh dove finisce il mio 3D interi così però devo dire Gabri che mi piace molto il fatto che i round siano molto flash molto eh vedi meno male e soprattutto caro Gabri evita di dire qua qua e qua e da questa parte e da questa parte perché non va bene va bene comunque adesso devo nasconderti il tuo piccone sì tranquillo non guardare non guardare non guardare ragazzi cosa ho trovato qua no però il mio piccone mi serviva veramente eh non puoi perché si sta nascondendo questo è imbecille comunque secondo me secondo me prende qualche strana sostanza che non si può dire per l'amor del cielo evitiamo di dire se no poi dopo qua ci chiudono pure il canale a lei se non bastasse ma da questa parte Gabri voi vi ricordate i donisiani questo mondo l'avevamo iniziato circa da questa parte mi pare ah che strano questo è un ritorno alle origini di questo di questo mondo molto bello devo dire che si è espanso un sacco sono molto fiero di questo mondo vanilla devo dire molto bello Gabri secondo me eh intanto è bellissimo io l'odoro noi ci siamo impegnati molto esatto ah ho anche trovato una tartaruga va che bella signora tartaruga com'è ma mi scusa scusami Gabri devo aspettare qua un'altra mezz'ora devo parlare no 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 io ho fatto però devo arrivare aspetta aspetta con le tartarughe non lo so io mi posso tippare comunque no 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 ok vabbè allora parlo un altro po' con la tartaruga ragazzi sentiamo parla parla ah signor tartaruga ok se vuoi poi ti parti ora ah signor Tunis Gabri è un deficiente deve metterlo in prigione deve volevo dire cosa niente niente ha detto una cosa un po' brutta la tartaruga ma dopo tutto è comprensibile no le tartarughe si sa che spesso hanno difficoltà purtroppo allora dimmi questa no 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 lì ghiaccio proprio e allora da questa parte per forza deve essere giusto più o meno ok quindi da questa ho sentito un qualcosa Gabri in lontananza che non vorrei non vorrei che fosse davvero successo no così l'acqua si sta ghiacciando oh madonna da questa parte eh dimmi un po' scusa ma perché tu non mi rispondi entro ma come ti rispondo subito dimmi un po' vai allora dimmi quando io ti dico si tu mi devi dire cioè quando io dico vai tu mi devi dire si vai queste sono le prove vai si sei stato velocissimo è solamente il tuo cervello che è lento no no così si raffredda oh mio dio da questa parte si si sta scaldando immaginavo immaginavo dopo tutto hai fatto bene no no così si raffredda hai fatto bene a nasconderlo qua Gabri perché non avevamo non avevamo mai nascosto niente eh infatti infatti qua dentro è molto sospetta come cosa eh da questa eh così si scalda così si scalda eh ma se l'hai messo in tutte queste casse sai che non le troverò mai no no non è in queste casse ah ok meno male no beh adesso vedi che l'hai messo ti ho aiutato nell'ender c'è per caso no no eh beh speriamo di no Gabri non è che l'hai messo qua vero dai non l'avrei mai detto comunque no dico davvero comunque ma come eh no cioè stavo pensando ma non è che lui ha pensato lo metto qua così almeno Dunis non lo troverà mai e invece ho fatto bene a pensare eh in realtà ho fatto così eh eh immaginavo immaginavo sono stato molto argutamente arguto allora eh ho notato ho notato tocca a te direi anche se io sto vedendo quel minuto va bene vieni il mio arco ti affido il mio arco ma affidami quel madonna cosa non mi far dire comunque Gabri tu così vedi dimmi così vedi mannaggia no però è così così ok guarda il muro non non spiare va bene va bene stai spiando vero no 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 non sto spiando no anche perché ti sto vedendo se spiavi magari morivi tipo perché ti dicevo io no no sì 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 no no non ti sto spiando e poi come faccio a spiarti ero pronto a fare slash kill eh no 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 non ce n'è bisogno sì guarda che il tuo cervello è completamente in ritardo oggi non so come mai ma come deve essere un problema che colpisce probabilmente quando c'è il quando c'è il nuovo episodio del insomma come si chiama del eh il collegio eh eh lo so che ti piace è vero il collegio brutto puzzacchione chi è che non lo guarda il collegio esatto pure io lo guardo i tunisiani pure io tunis pensa pensate voi voi scrivetemi nei commenti se a voi piace il collegio oppure no a me piace un sacco è bellissimo è bellissimo lo amo vorrei proprio eh sposarmelo il collegio cosa allora adesso tipo eccomi qua ah che bello adesso puoi benissimo andare a cercare il tuo arco va bene è di qua no acqua chissà da dove se l'hai tirato fuori questo arco perché tunisiani guardate che gabri è uno di quei ma beh non vi dico cosa perché è meglio voi avete già capito eh perché sono fuori dalle scuole ma niente niente lasciam perdere ma cosa comunque è di qua se non avete capito è meglio acqua come al solito di qua è giusto fuoco vai da questa parte ah bene bene in linea dritta dovresti trovare l'oceano tu prosegui così e vai avanti fin quando non trovi la fine del mondo cioè circa 60 mila blocchi di 60 milioni scusa di blocchi di distanza e quindi troverai e se stai ad aprire tutte le ceste perdiamo tempo no 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 perché non è qua perché non è qui e poi stavi facendo casino idiota ma come stavo facendo casino eh sì perché le ceste fanno casino o no quando ah continua a farlo non sono qua volevo vedere se c'era no te lo dico io quando è fuoco vicino vicino fuoco devo mangiare vado lento oh mio dio aspetta un attimo vabbè tu vabbè vai facciamo lo facciamo dovevo prendere delle patate di un izenima comunque qua no è acqua se vai qua no e dov'è come vedi c'è l'acqua l'acqua potrebbe essere da di qua assolutamente dove sei andato dove sei andato dentro il portale no non mi dire no non sono entrato ecco di qua eccomi allora vieni no dove devo andare da questa parte ho capito ho capito ho capito buongiorno scusa io ho praticamente detto ragazzi hai fatto non dovevi dirvelo no è che sei deficiente non so come fare a dirtelo eccolo qua hai trovato va che bello no mannaggia le tue chiappette foca di quella grassa cicciona eh hai visto ho visto sì allora ultimo round mi devi nascondere questa pala in diamante ho l'inventario pieno ma io non ci voglio che basta così ecco così così io vado a prendere il legno di cremisi dal nether di cremisi cos'è ma infatti no non lo so sarà una cosa una traduzione strana comunque minecraft ragazzi lo traducono malissimo cioè nel senso è brutto minecraft in italiano è infatti bellissimo in inglese esatto è orribile pensavo che mi stessi contraddicendo no 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 non lo farei mai ah ecco sarà meglio comunque io mi sono abbastanza impappinato con il verbo basta faccio parkour ma forse non dovrei fare parkour perché si sente la tastiera no però dunì si è anche un pro nella tastiera no cioè eh infatti infatti dunì sono bellissimo ah quanto è bello dunì ok da questa parte cos'è che c'è ah un beato capo vabbè cosa niente 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 praticamente c'è esattamente dunì come ben potete vedere ah no anzi c'è la casa di nonno non è che sei là per caso ti immagino no 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 comunque ho fatto ho fatto ho fatto ah ok posso tiparmi si si puoi tiparti puoi tiparti perfetto perfetto quando ti tipi vai sotto la panchina ah veramente io ti vedevo qua sotto non so cosa ci stavi facendo ma come io ero seduto qui no secondo me tu ti imbarazzi troppo no non va bene così gabriel cioè devi essere più più tranquillo eh io sono tranquillissimo si sente infatti non si capisce un cavolo di quel che dici idiota parla bene parlo bene parlo bene ok perfetto scusa si è sentito un qualcosa vabbè andiamo ma come si è sentito un qualcosa da questa parte cos'è che c'è gabriel no no così si ghiaccia l'acqua da quella parte vediamo un attimo no no così no ma scusa ma perché no continuo a metterci ragazzi c'è una cosa pazzesca ah ti svegli ma come devi parlare quando io ti dico quando io ti faccio una domanda tu mi devi rispondere entro il secolo corrente perché sennò i tunisiani aspettano lì la tua risposta che dicono ah ma cosa vuole dire sto qua e non risponde non volevo non volevo eh fai bene a dire non volevo vedete i tunisiani cosa succede quando si hanno amici con una g con una g su una maglietta eh qualche c'è che che schifo cosa cioè scusa ma che razza di outfit cioè scusami balenziaga devi avere come scarpe cioè che schifo poi scusami eh Gucci devi avere come felpe Louis Vuitton non lo so è meglio la mia la borsetta di Louis Vuitton scusa cosa no eh no adesso ti denunciano tranquillo che ti denunciano no 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 scherzo comunque no di lì no scusa ma ti sei mostro sulla sedia no si è sentita una cosa terribile guardate che questo video sta degenerando comunque eh sì secondo me è per colpa del collegio no no così proprio si sta allontanando malissimo l'acqua a che parte devo andare da questa parte dai da questa no dai da questa più o meno ma non mi rispondi niente è impossibile ma come a me sembra di risponderti subito perché ti devi concentrare su ciò che dico eh va bene va bene concentrarti solo su parlare ok vai prova allora così l'acqua si sta ghiacciando molto bravo comunque è brutto che l'acqua si stia ghiacciando ma molto bravo hai risposto molto in fretta eh vedi hai notato mi sto concentrando di più poi no raga mi sto quasi emozionando gabrie è diventato super super mamma mia quanto sei bello quando vai così mandate i bacini nei commenti per gabrie eh nei commenti cosa mi raccomando gabrie anche tu devi mandare i bacini alla nostra alle nostre nel nostro pubblico no manda i bacini eh va bene va bene manda i bacini vi mando i bacini eh no devi fare proprio mi bacio a tutti eh bravo bravo eh comunque no lì ti stai allontanando allora allora se tu non ah è una minera no così no 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 non è lì dentro allora gabrie dai ti devo dare un piccolo indizio vicino a casa mia ok non mi serviva il tuo stupido indizio perché ci stavo già andando per tua informazione ah bene e da questa parte gabrie? eh può essere ok perfetto no così ti stai allontanando no vabbè ragazzi nel senso mi prende per il sedere da questa per forza dov'è? no adesso mi devo aprire tutte le sue ceste ah 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 hai aperto quella dove c'era no non apro più nessuna cesta fammi vedere quale è immediatamente è questa ah 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 ok ma dai ma non si vedeva niente mi sembrava una zappa ah 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 gabrie che si mangia le zappe se le mette ma cosa? in bocca chiaramente perché se le mangia quindi se le mette in bocca cosa pensate voi? che tipo si sono no no stai zitto che a te piacciono molto le zappe in bocca anche perché ma cosa? quella forza cosa? vabbè ah 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 ci siamo capiti i tunisiani allora quindi è stato bello fare questo video esatto esatto gabrie ha qualche cosa che non va nel cervello ma questo eh lo so lo so se vi è piaciuto mi raccomando mettete la pala anzi la zappa nei commenti ma c'è le voci della zappa non lo so se no mettete un ortaggio tipo una patata un una carota anzi un qualcosa di lungo è più preferibile per gabrie perché a lui cosa? mi piacciono molto le zappe le pale le spade soprattutto quelle vabbè insomma e quindi niente iscrivetevi al canale mi raccomando lasciate like non staccatevi i tasti della tastiera per l'amore del cielo come sto per fare io anche se non riesco perché questo tasto è un po' un po' li sto staccando i tasti aiuto no ho rotto tutto per staccare gabrie no gabrie non ti sento più mi ero buttato per vai cosa hai fatto basta io non voglio più sapere niente gabrie chiudiamo qua il video è stato bello ciao ragazzi ciao